Un altro articolo del New York Times torna a parlare di Napoli e stavolta si concentra sull'ordinanza del 10 gennaio contro le deiezioni canine adottata per ragioni sanitarie e di decoro urbano. L'autore è Jimmy Hardley, premio Pulitzer 2006, che considera l'avanguardia il meccanismo che si sta adottando a partire dalla Municipalità Vomero-Arenella, con la costruzione di una banca dati del DNA di tutti i cani del quartiere per poi poter incrociare i dati e multare i proprietari. Abbiamo da subito notato la conoscenza da parte del cittadino della nuova norma e quindi sul territorio insieme agli altri reparti coinvolti della Polizia Municipale, sia nei quartieri Vomero-Arenella dove è in sperimentazione il progetto relativo al DNA, sia nel quartiere Fuorigrotta-Bagnoli, si stanno riscontrando miglioramenti in termini di decoro urbano, sia della conduzione degli animali, quindi l'utilizzo del guinzaglio e della paletta per la raccolta delle deiezioni, sia in termini di iscrizioni anagrafiche, così come mi riporta il servizio veterinario dell'ASL, dove appunto si sta implementando sempre di più il loro archivio e sarà utile quindi per poi procedere nelle fasi successive dell'esercizio dell'ordinanza per il DNA canino. Ma al di là dell'innovativa procedura adottata, è partita anche una fase di controllo della conduzione dei cani molto capillare. Tre volte alla settimana, in orari differenti, le squadre della Polizia Municipale, insieme con il personale di ASL e da SIA, controllano l'iscrizione all'anagrafa e presenza di microchip e la rispondenza a tutte le altre norme. Ora il servizio si estenderà a Fuorigrotta e a Bagnoli, per poi espandersi in tutta la città. Dopo un solo mese, la presenza di deiezioni canini abbandonate per strada si sono ridotte già del 90%. Vengono controllati in media 90-100 conduttori e cani a settimana, quindi siamo nell'ordine di una media di 350-400 controlli a mese. Sono ridotte notevolmente le presenze delle deiezioni su strada, che sono il fastidio per il cittadino, ma sono ovviamente un pericolo per la salute pubblica, così come ci ha più volte segnalato l'ASL.